Scarpitti, è arrivato il momento di iniziare il lavoro, intanto con quale entusiasmo per quanto le riguarda? L'entusiasmo è veramente tanto perché siamo fermi da tanti mesi purtroppo per la situazione ben nota a tutti e poter ricominciare in una piazza come questa, una società importante come l'Acqua e Sapone, ti dà ancora più stimoli quindi da parte mia, da parte dello staff, da parte di tutti quanti, anche i giocatori stessi c'è una voglia enorme di rimettersi al lavoro e presto avremo finalmente l'opportunità. Ecco con la rosa che ha allestito il club e anche in base al suo credo, che Acqua e Sapone vedremo quest'anno? O meglio, come la vuole immaginare nel suo optimum? Chiaramente l'Acqua e Sapone come società, come storia è abituata a competere per tutti i titoli ed è quello che proveremo a fare anche quest'anno assolutamente. Il roster che è stato costruito è sicuramente molto importante, la società è venuta incontro alle mie esigenze, alle mie richieste e siamo riusciti a portare qui a Montesilvano giocatori di esperienza e anche giocatori nuovi che possono ben affermarsi in questo campionato. Di conseguenza la squadra è stata costruita con l'idea assolutamente di essere competitivi, aggressivi, intensi, quello che piace vedere a me, ma ci siamo trovati assolutamente anche con la proprietà e vedere una squadra che dia sempre il massimo, abbia l'opportunità di cogliere il risultato in qualsiasi situazione su ogni campo. Ecco, il ritorno di Luca Ian, poi la presenza dei giocatori di esperienza che sono un po' l'asse portante del club come i vari Mammarella, Coco, il capitano Murilo. È una stagione che vi vedrà, insomma, presumibilmente protagonisti. Hai detto bene, l'ossatura, la base di partenza è la cosa prioritaria. Nel senso, sono rimasti in questa società giocatori fondamentali che hanno scritto la storia di questa società e del futsal italiano e sono ragazzi che sicuramente saranno i primi a spingere verso i nuovi obiettivi. Poi c'è stato il ritorno di Luca Ian, ci sono stati altri inserimenti molto importanti. Crediamo di aver costruito un mix di esperienza e voglia nuova di portare altro qui a Montesilvano e sicuramente faremo strada. Lei ha avuto una importante ascesa con una serie di campionati vinti. Ora questa opportunità, diciamo che lei arriva in uno dei top club italiani, è un grande momento anche per lei? Sicuramente, dal punto di vista personale, diciamo la gavetta è stata lunga, sono partito dalle serie regionali e vincendo vari campionati sono arrivato fino alla serie A e diciamo che la cosa che mi fa piacere, in particolare a me, anche penso un po' tutta la categoria degli allenatori, è che ci sono società come questa, come la famiglia Barbarossa, che ha voluto dare l'opportunità a chi si è fatto al basso senza, magari come qualche volta accade, prendere degli allenatori soltanto in base al nome, eccetera. Quindi è un'opportunità importante per me, è una responsabilità grossa che sento sulle spalle, però penso di averle abbastanza larghe.